Una gara difficile, una gara particolare, il destino ha voluto che prima mi incontrassi con mio fratello e poi con un vero amico mio che è Rosario Campana, quindi pronti via due subito partite difficili con due ottimi allenatori e Rosario è un allenatore di spessore, un allenatore che negli ultimi anni ha sempre fatto la Serie D, è un allenatore molto quotato nella nostra regione e anche fuori regione per le sue conoscenze, quindi mi aspetto una gara difficile, spicolosa dal punto di vista tattico. Una squadra, la Lobanova, ha una società molto forte, una società molto simile alla nostra del Forilio e peccato per gli obiettivi che sono un poco cambiati nell'ultimo periodo, però erano nati tutti e due, come ha detto lei prima, con due obiettivi diversi, ma al di là di questo è inutile per parlarne del passato, guardiamo al futuro, sarà una partita complicata, una partita difficile, sarà una bellissima partita di sport anche quella, perché a Casale ci sono tutte partite belle, il campo già permette, la gente è genuina, sono amico del territorio, quindi lo posso dire in maniera molto tranquilla e sarà una bellissima partita fra due ottime squadre e due grosse società.